troppa gente e troppo spesso sottostà a delle situazioni negative manipolazioni soprusi non dico quelli gravi e adesso qua parlo di cose che si potrebbero risolvere un pochino più facilmente intervenendo come ti dico però la gente spesso sottostà a delle situazioni di merda in vari settori perché ha paura di entrare in contrasto o litigare con quella persona e come dico sempre in questi casi ma se già quella persona lì quella situazione insomma quella persona lì ti sta creando un problema e è quella persona che sta creando il contrasto perché se no non avresti questo problema se tu vivi un problema con una persona vuol dire che lo vivi il contrasto ok nel senso che non ci stai bene quindi vivi un problema la persona ha creato già un contrasto con te e quindi perché hai problemi a dirgli che c'è qualcosa che non va a farti valere anche a litigarci cioè nella serie a far a far capire il tuo punto di vista a rimettere i puntini sulle i ok cioè abbiamo paura a volte a compiere degli atti perché si dice ma poi succede questo quando in realtà quella conseguenza sarebbe comunque migliore di quello che già stai vivendo ok quindi io capisco che non è piacevole andare a creare come si dice mentalmente cioè erroneamente a livello mentale andare a creare litigi contrasti diciamo tutte queste qua tensioni però quando è necessario quando la situazione fa schifo e di merda è una cosa che bisogna fare perché altrimenti non finirà mai sta cosa qui e andrà sempre peggio perché le cose marce continuano a marcire ancora più il veleno continua a farti male nel tempo non è che se continui a berlo poi ti fa bene ok quindi se non riesci a creare questo contrasto in più ovviamente però risolutivo se non riesci ad affrontare degli argomenti delle cose devi iniziare a prendere l'abitudine nella vita con le persone in generale ma anche con degli sconosciuti così per divertirti tra virgolette esercitarti prendi quindi il concetto è questo prendi maggior abitudine a dire le cose prima possibile a dirle magari inizialmente scherzando eccetera che però la persona capisce che tu hai fatto caso a quella cosa e non ti sta bene e vedi anche come la reazione della persona se vedi che la persona reagisce male o ignora troppo quella cosa che tu hai detto in modo easy inizialmente allora mettici subito un carico in più della serie o comunque ieri cavolo mai detto quella frase cioè tu quando quando vuoi tagli e cuci caspita ci sono rimasto un attimo così vedi è abbastanza easy e la persona dice si capirai allora sai che quello sarà un problema perché sta sminuendo una cosa che tu hai detto e facendogli pure la carineria di dirlo in modo easy tranquillo quasi scherzoso giocoso per non appesantire subito ok oppure se la persona si aggancia a quella roba lì dice si perdono tu qui sopra e sotto sai che quello sarà un problema oppure sai che ne state già parlando e o discutendo e quindi già vi state confrontando quindi è positivo se invece la persona magari si scusa perché ha capito che ha sbagliato hai già tagliato le corna al toro prima che ti magari poteva colpire e quindi anche in questo caso è positivo anche perché a volte magari questo però capita poco spesso le persone fanno delle cose che a noi ci stanno non ci stanno bene ci vanno male insomma non ci piacciono ci rompono i coglioni altamente magari manco lo sanno anche perché sono un po stupide o hanno visioni sensibilità diverse esperienze diverse sono un pochino decerebrate però magari ci piacciono ci stiamo bene insomma mica siamo tutti perfetti ecco quindi dire questa cosa fa capire anche a quella persona eventualmente sia questo il caso una volta su cento è questo perché la gente è stronza più e bastarda più che cogliona poi cogliona per altre cose ecco in questo caso almeno in quel caso su facciamo 30 non 100 avremmo fatto capire la persona che quella è una roba che non è che ci piaccia tanto per usare un eufemismo ok ci vediamo ai prossimi video io sono alex sonofri siate sempre strong siate sempre strong siate sempre strong